I ringraziamenti che si fanno di maniera, voglio ringraziarli sinceramente per condividere, per come stiamo condividendo questa esperienza difficile e entusiasmante e per come l'abbiamo condivisa da 30 anni a questa parte, perché noi non siamo gente che sta insieme per interesse, noi da 30 anni a questa parte stiamo insieme per scelta, stiamo insieme perché abbiamo una visione da costruire e da regalare a questa nazione e quindi non credete a tutte le fake news che leggete ogni giorno sul fatto che noi litighiamo, che discutiamo, noi ogni mattina ridiamo di quelle ricostruzioni che servono solamente a tentare di mettere zizzania per poter rallentare l'attività del governo, ma da sempre c'è un modo solo per valutare la compattezza di una maggioranza e è quanto il governo riesce a essere concreto e la velocità con la quale riesce a lavorare. Io penso che senza timore di smentita si possa dire che in questo anno e mezzo questo governo ha prodotto molto di più in termini di provvedimenti e risultati di quanto i governi messi insieme con lo scotch della sinistra facevano in intere legislature. Sono fatti, non sono opinioni, sono fatti perché chiaramente c'è tanto lavoro da fare, ancora moltissimo lavoro da fare, ma molto è stato fatto in questo anno e mezzo e alcuni dati lo raccontano, lo raccontano ad esempio i dati sull'occupazione perché in Italia nell'ultimo anno noi abbiamo avuto record occupazionale, il record di contratti stabili, il record di lavoro femminile, lo abbiamo costruito con provvedimenti, con strumenti che davano un segnale importante alle nostre aziende e ai nostri lavoratori e cioè che il governo era al loro fianco, che non avremmo disturbato chi voleva creare ricchezza e quel messaggio è arrivato. Poi dobbiamo sempre ringraziare i lavoratori e le aziende perché bisogna sempre ricordarsi che non è lo Stato che produce ricchezza, lo Stato non produce ricchezza, non abolisce la povertà per decreto, non aumenta l'occupazione per decreto, quello che lo Stato deve fare è mettere chi produce ricchezza in condizioni di farlo, non deve rompere le scatole, deve essere al fianco delle imprese e dei lavoratori ed è il segnale che abbiamo dato e i risultati di questi numeri che vi sto raccontando lo dimostrano. Abbiamo concentrato le poche risorse che avevamo per aumentare i salari, per aumentare le pensioni più basse, ci siamo dedicati sì a chi era maggiormente in difficoltà nella nostra società, lo abbiamo fatto con l'abbattimento del cuneo contributivo che ha messo fino a 100 euro al mese e più nelle tasche dei lavoratori che avevano fino a 35 mila euro di reddito l'anno, abbiamo portato le pensioni minime a 600 euro, abbiamo rivalutato le pensioni particolarmente quelle più basse, abbiamo fatto una serie di provvedimenti che ci aiutavano a difendere il potere d'acquisto delle famiglie e anche questo è certificato. I risultati sono certificati da diversi indicatori che non sono del governo, che sono di soggetti istituzionali terzi che dicono che l'Italia oggi pur in una difficoltà immensa, in una situazione che intorno a noi è esplosiva sta facendo meglio di molti altri paesi.